Noi dobbiamo guardare alla realtà dei fatti, la realtà dei fatti è cercare di centrare con tutte le nostre forze questo obiettivo, dopodiché veramente festeggiare alla grande perché è un obiettivo straordinario se riuscissimo a rivincere lo scudetto quest'anno. Tutto l'altro deve essere un qualcosa che ci deve far crescere, ci deve far capire dove siamo, ci deve far capire quanta strada c'è da percorrere, in maniera molto serena. Se poi qualcuno non lo vuole capire io ogni volta cercherò di ribadire questo discorso e di farlo capire a priori, ribadendo che guardiamoci sempre indietro per capire dove stiamo. Noi ogni anno, prima di iniziare il campionato, ci poniamo degli obiettivi. L'obiettivo nostro è un obiettivo di crescita, l'obiettivo di crescita prevede che la Juventus ogni anno deve entrare in Champions.